guardiamo la leaderboard e poi vediamo cosa succede siamo undicesimi in italia signori allora fatemi vedere innanzitutto il fatto che io possa recuperare un po di robette prima vediamo il club come sta andando allora classifiche locale club non so sinceramente come siamo messi ma andiamo intanto a recuperare delle cose raga signori abbiamo bull abbiamo bull signori inizia a sbloccare un nuovo brawler super raro orco porco e qua signori sono dubbioso otto bit otto bit tic 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 carl prendo otto bit perché sembra un gameboy sembra un gameboy sembra un gameboy sembra un gameboy raga orca boia se io chi prendo e che prendo io raga edgar tutti mi state dicendo edgar dentro con edgar ok edgar sembra veramente forte signori qua è tutto leggendario signori qua è tutto leggendario questo è buono mi sa mi sa che questo è buono questi li prendo raga oh rosa figa rosa stavo leggendo rosa fa la bottana invece è scritto la botanica mitico piano 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 questa merda voglio far salire il clan alto in Italia raga porco cazzo 65 ok UNED o JUNED 81.000 siamo risaliti un po' in Italia classifiche locale club siamo 120 esimi raga caressio potente raga sta entrando gente seriamente potenti in questo clan io vi ringrazio merda attenzione perchè sto giocando con un altro dynamite ho messo ho messo di shortcut per fare le emot eh non so è ubriaco mi sta piacendo beh prendiamo tutto noi ho c'ho da sotto bro e andiamo a fare il coglione io caro rilanciamo le dinamiti figlio di puttana ti apro le miniere ti tiro giù la casa deficiente piano bello sono pronto sono pronto a coprirti bro andiamo 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 mica questo qua mette giù anche gli spray scontro finale piano scontro finale scontro finale raga nel mega head chill del polluro del vetz del vaffanculo non è qua mi piace mi piace che cecchiamo mi piace eccolo eravamo là eravamo là a lanciare dinamiti come se fossero riso ai matrimoni figa Nita Nita livello 3 ma l'abbiamo già provato figa il primo il primo proviamo edgar si va bene livello 7 anche edgar va bene lo andiamo a provare oh cazzo mi sa che non ho mirato merda merda vado raga ma sono troppo forte raga ma sono troppo forte ma quanto cazzo è forte edgar porca troiona Merdina! Merdinella! Nice! Ci manca lì del big piece of shit. Che cazzo fa qua là dietro? Ehi coglione! Non è ancora... The fucking bastard! Non ho mirato raga! Non ho mirato! Non ho mirato! Ma infatti non ho mirato qua eh! Ho mirato! Ho mirato! Sconfiggere 15 nemici! Easy! No, signor Edgar ci porta a casa dei punti esperienza notevoli che ci permettono di aprire roba! Raro! Super raro! Super raro! Super raro! Mentality! Eh minchia il colti incazzato non è male eh raga! Sì! Vabbè me li sono fatti tutti io! Merda! Con calma! Con calma! Edgar è veramente forte! Qua! Sì vabbè ciao! Sì vabbè ciao! Sì vabbè ciao! Porca troia! Siamo a 33 serie di vittorie! E qui arrivano anche i grandi punti esperienza e le varie cose! 1275 coppe! Portato a livello 7 anche il signor Bull Speso un po' di soldini per portarlo al 7 ma Lo andiamo a provare Mr. Bull Eh lo sostituiamo È forte lui ragazzi! Kit non è buono! Come kit non è buono? Andiamo! Da vicino! Merda un altro brother da vicino brutta storia! Devo pushare! Ok! Ok c'ha il pump proprio! Claro! Non so neanche cosa faccia la sua ulti! Ah mi sembra che carica con la ulti! Mi sembra che ha il fucile a pompa però eh raga! Sono incazzatissimo! Non mi dà delle buone vibes Bull! Non mi dà delle buone vibes! Corco! Ora scappa! Quello! Eh so è brutta bro! È brutta bro! Non ti posso aiutare bro scusami! Eh opto per la fuga! Opto per la fuga! Non ci seguono! Dai che torna! Ehi! Pezzettino di merda! Benissimo! Però serve che siano due le squadre! Oh che cazzo fa? Bello! Ma siamo ancora due tre squadre! Devono essere due! E recupera bro! Let's go scontro finale! Non lo so! Se mi piace Bull! Non lo so! Let's go! Merda! Troppo torno indietro! Calmo calmo! Non me la posso rischiare così! Piuttosto recupero vita e torno dopo! Calmo calmo bro! Bellissimo! Scontro finale di nuovo nice! Eh scontro finale di nuovo God! La ulti è molto buona per scappare ho notato sì anch'io questa cosa! Minchia ma c'è un botto di punti vita! Che cazzo volevi fare esattamente scusami! Non mi è chiaro! Non mi è chiaro qual era l'idea del nostro amico Gianfranco per Clazzi! Nita! Mi sto un po' spaventando però mi fermo un secondo! Vado! Merda! Io ho paura! Io ho paura! Io ho paura! Giacchone! Merda con il bombardiere però vediamo Comunque Dynamite è uguale eh nel senso Sistemiamoci un attimino la vita bro Tu c'hai 9.300 io c'ho 5.200 Grande! Grande bro! Scontro finale! Easy! Non è andata ragazzi che non è andata! E cosa c'è bro? Non ti do a cazzare! Eccolo! Madonna ragazzi questo qua è fortissimo! Bisogna trovare l'altro coglions! Io seguo lui! Figa lui apri io lo seguo! Mi piace che stiamo ceccando ci sta Un piccolo check anche qua Non c'è Un piccolo check qua Eccolo Porco cazzo esploso Vai Let's gooo! Dai! Molto bene Molto bene 1455 coppe raga Bellissimo Ed è la cinquantesima win di fila signori E' ancora vivo sul serio? Oddio che cazzo ha messo giù? Signori Chiudiamo veramente In maniera incredibile Chiudiamo in maniera incredibile 50 win consecutive E' pazzesco Ci prendiamo anche 200 di gold E a breve cambierà anche il coso Arfa 68.000 coppe per Arfa Lo prendiamo Cominciamo ad avere un clan Veramente notevole raga Guardiamo La leaderboard E poi Vediamo cosa succede Siamo undicesimi in Italia signori Siamo undicesimi in Italia